Come avete potuto vedere, la delegazione sta salendo in prefettura. Oggi siamo in prefettura perché oltre ad aver riportato il primo risultato durante lo sciopero generale del settore, è importante dire al prefetto quali sono le nostre preoccupazioni e le cose che mancano e che vogliamo. Le cose che ci sono sono chiare, siamo riusciti a ottenere l'eliminazione del colloquio in questo concorso che era assolutamente importante, ma rimane una questione decisiva. I posti a bando sono 11.000, i lavoratori sono 16.000. Noi abbiamo bisogno di strumenti e di scelte politiche per risolvere i problemi dei 5.000 che rimangono fuori perché non esistono lavoratori di serie A e di serie B e quindi vogliamo una soluzione per tutti i 16.000 e la soluzione passa attraverso altri provvedimenti per lavoratori e lavoratrici molto fragili che hanno bisogno non solo di mantenere il posto di lavoro ma di implementarlo nell'orario e anche nel salario. Abbiamo situazioni veramente al limite della civiltà con lavoratori o lavoratrici che lavorano un paio di ore al giorno, così non si garantisce assolutamente nulla e quindi abbiamo bisogno, ripeto, di dire al prefetto quali sono le cose che servono per poter dare copertura a tutti i 16.000 e nessuno deve rimanere escluso.